Ciao, sono Emmanuel Ezzanella, Mental Coach Analogista e in questo video ti parlerò di risultati che ho ottenuto attraverso l'uso delle discipline analogiche. Qual è il mio obiettivo per quanto riguarda il mio lavoro principalmente? Quali sono i disagi che di solito le persone mi chiedono di aiutare a risolvere? Beh, prima di tutto è l'autostima, l'insicurezza, perché? Perché questa va a contaminare tutto un processo per quanto riguarda le relazioni, il lavoro, lo sport, non a caso lavoro principalmente nello sport al combattimento. Però ho notato in molti anni di lavoro che la bellezza di quest'arte, di queste discipline analogiche, mi hanno permesso di aiutare tantissime preghi a diventare cambiamenti del mondo europeo e italiani non solo applicando le regole del flusso che insegno io, ma anche andando a sciogliere dei blocchi particolari attraverso dei calcoli matematici che ci ha insegnato il nostro maestro Stefano Benemeglio. La cosa ancora più fantastica è che ultimamente, grazie a lui, siamo riusciti, o meglio lui è riuscito e noi come allievi siamo riusciti a identificare dei pensieri nascosti che praticamente vanno a ingannare l'individuo in un modo veramente straordinario. E andando a rimuovere quei pensieri ipnotici le persone o l'atleta riesce ad aumentare la propria autostima, la propria sicurezza e ottenere e raggiungere il suo obiettivo meglio l'oggetto del desiderio con una semplicità veramente enorme. Piccoli risultati? Beh, magari una persona non riesce a esprimere se stessa nel lavoro, che si agita, si sente insicuro, si sente incompetente, anche se è bravo, e nel giro di pochi giorni praticamente cambia tutto dopo la seduta, proprio perché si va a rimuovere quel blocco che rende la persona incapace di agire. Beh, questo posso dire che è meraviglioso perché in breve tempo si riesce a raggiungere dei risultati veramente straordinari e le persone, quando hanno finito le sessioni, una delle frasi classiche che viene detta è, è come se mi avessi fatto un peso, mi sento volare, mi sento leggero, mi sento come le spalle a volare, non sento più questo peso qua. Beh, e tutto questo solo dopo un'ora. Solo dopo un'ora di sessione si riesce a raggiungere un risultato veramente straordinario. Quindi questo è il ringraziamento che faccio al mio maestro Stefano Benemeglio, delle tecniche veramente straordinarie che mi ha insegnato, che ci ha insegnato per aiutare sia me stesso e le persone a raggiungere i propri obiettivi e aumentare una sicurezza interiore veramente incredibile, Come? In un attimo. Ciao da Manuel Ezzanella.